Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sica, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, signore non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampirla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità. Così infatti il padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore Carissimi fratelli e sorelle, Al centro della liturgia di questa terza domenica di Quaresima sta l'acqua come punto di incontro, di convergenza, di due interlocutori Dio e l'uomo. L'acqua diventa il simbolo che compie ed esprime la richiesta dell'uomo e la risposta di Dio. Tra le tante proprietà che questo elemento naturale possiede, una emerge tra tutte. Essa disseta. Ed è proprio su questa proprietà che si fonda in particolare il discorso di Gesù con la Samaritana. L'avvio è quanto mai naturale. Gesù ha sete. È mezzogiorno, fa caldo ed egli ha fatto molta strada sul sole di Palestina. Donna dammi da bere. Da qui Gesù prende lo spunto per parlare alla donna di un'altra sede, di un'altra acqua che sola può estinguere tale sete. Chiunque beve di quest'acqua, si riferisce all'acqua del pozzo, avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà per lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Chiunque ha desiderio di cose profonde o bisogno di risposte decisive per la propria vita, dovrebbe fare riferimento a queste parole di Gesù. Farle risuonare nella profondità del proprio cuore, del proprio essere, assimilarle fino a scoprirne a poco a poco, con l'aiuto interiore della grazia, tutto il significato. La rufforza è tanto grande che quella donna, fino allora leggera, preoccupata tutta e sola di trovare un uomo, ne aveva avuti cinque, dice il Vangelo, senza essere soddisfatta, improvvisamente si sente come liberata, disincantata, sicché alla fine pare dimenticare tutto il passato, nella gioia di avere incontrato il Signore. Gesù le aveva detto semplicemente, quello che tu cerchi sono io che ti parlo. Gesù, con quelle parole, deve averle fatto capire, dunque, una cosa importante. Questa cosa è il cuore del Vangelo di oggi e noi dobbiamo scoprirla. Ci aiuta un testo del profeta Geremia che sembra quasi parafrasato nel Vangelo odierno. Geremia paragonava coloro che abbandonano Dio per cercare aiuto e felicità nelle realtà create a gente che abbandona una fonte di acqua viva e si scava nelle pozzanghiere di acqua piovana che, tra l'altro, non trattengono l'acqua perché sono cisterne screpolate, bucate. Gesù vuol dire la stessa cosa. Il cuore umano ha sete di vita, di felicità. Lo avvertiamo, ognuno di noi lo avverte perché Dio ci ha creato così, con questa sete innata e il nostro cuore sarà sempre inquieto fino a quando non treveremo la vera sorgente a cui abbeverarsi. Ci sono due modi per tentare di estinguere questa sete. Il primo è bere dell'acqua che proviene dalle realtà create. Ricercare, cioè, disperatamente, la gioia nelle cose, nei beni, nella fama, nel prestigio. Ricercarlo in altre realtà. Quest'acqua, lo sappiamo, lo abbiamo sperimentato, estingue soltanto provvisoriamente la sete. Anzi, spesso la soddisfa in modo illusorio. Anzi, fino ad arrivare ad avvelenare l'anima. In ogni modo verrà il momento in cui non se ne potrà più bere. Guai a puntare la nostra attenzione, ad orientare la nostra vita sulle realtà non vere. Gesù, invece, ci offre la sua acqua, che praca ogni arsura, ogni bisogno del cuore umano, ci offre la sua verità, il suo amore, la sua amicizia. E allora, assecondiamo quello che il grande Papa San Giovanni Paolo II consegnò alla Chiesa del Terzo Millennio, quando disse Chiesa del Terzo Millennio, ti rimane un compito contemplare e rivelare il volto. Sì, fissiamo il nostro sguardo su Gesù, accostiamoci a Lui, trafitto per amore, abbeveriamoci alla sorgente del suo cuore. E allora la nostra sete, la sede di felicità, la sede di pienezza di vita, ogni sete che abita nel nostro cuore, sarà portata a compimento, saremo dissetati pienamente. Mi piace concludere questa riflessione con una preghiera molto cara alla pietà francescana. Dice così, vi invito a farla vostra, a farla risuonare nel vostro cuore, proprio desiderosi di attingere alla sorgente del cuore di Cristo, l'acqua viva del suo amore. Rapiscati, prego, Signore, l'ardente dolce forza del tuo amore, la mente mia, da tutte le cose che sono sotto il cielo, per chi io sia degno di morire per amore dell'amore tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell'amore mio. Buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti. Grazie per la visione!